Buongiorno a tutti ragazzi, questa settimana tra le tante altre notizie analizzeremo due nuovi leak, uno che riguarda l'imminente uscita di Mario Odyssey 2, l'altro che riguarda tre nuove meccaniche segrete del sequel di Breath of the Wild scoperte tramite dei brevetti depositati da Nintendo. Se il 2022 vuole davvero replicare il 2017 riproponendo i sequel dei due giochi principali usciti per quell'anno, vale a dire Mario Odyssey e Breath of the Wild, dovremmo aspettarci anche un successore di Nintendo Switch? Un eventuale Switch Pro? Come detto nel mio precedente video, ai The Game Awards di quest'anno è stato annunciato Sonic Frontiers, il nuovo titolo 3D di Sonic. Ebbene, ciò potrebbe essere correlato con un imminente annuncio riguardante Mario Odyssey 2. Il tutto risalirebbe a lontano 2019 sulla piattaforma 4chan quando si diffuse un leak che riguardava due giochi. Il primo trattava di un nuovo titolo 3D di Sonic ambientato nelle isole Starfall. Il secondo riguardava il sequel di Mario Odyssey, il quale avrebbe compreso ben 20 ambientazioni e la presenza di Luigi come personaggio giocabile. Già sappiamo che il primo leak è stato indovinato appieno e quindi non avremo motivo di dubitare anche sull'affidabilità del secondo leak che riguarderebbe appunto il sequel di Mario Odyssey. Se ciò fosse vero, il lancio di Mario Odyssey 2 sarebbe imminente e potrebbe avvenire già nel prossimo Nintendo Direct. Tramite dei brevetti che ha depositato Nintendo a maggio scorso, sono state scoperte tre nuove meccaniche riguardanti il sequel di Zelda Breath of the Wild. Il primo riguarderebbe l'abilità di Link di attraversare gli oggetti. Ebbene, tramite i brevetti è stato scoperto che Link può attraversare qualsiasi piattaforma volante, a patto che quest'ultima sia ad una determinata altezza e ad una determinata angolatura. Inoltre, non devono essere presenti ostacoli tra Link e la piattaforma e Link deve approdare necessariamente in un luogo aperto. La seconda meccanica riguarderebbe una funzione di rewind, tramite la quale è possibile avvolgere il movimento degli oggetti, letteralmente spostandoli indietro nel tempo. Da notare sempre dai brevetti che è presente una barra che si esaurirà gradualmente quando la funzione viene utilizzata. Terza ed ultima meccanica riguarderebbe la caduta libera, durante la quale Link può letteralmente aggiustare la sua posizione durante la caduta ed avrà inoltre anche l'abilità di scoccare frecce mentre cade. Queste sono le meccaniche emerse dai brevetti depositati a maggio. Adesso non resta che attendere un prossimo Nintendo Direct per aspettare che Nintendo confermi o smentisca queste meccaniche. Pochi giorni fa si è svolto l'Indie Direct, durante il quale, tra i numerosi giochi annunciati, spicca Omori, il celebre RPG che si rifà ad EarthBand che uscirà anche su Nintendo Switch a primavera del 2022. The Pokémon Company ha pubblicato un nuovo trailer per Pokémon Leggente Archeus. Dal trailer ci vengono presentati Daemon, reggente del team Diamante, e Perula, reggente del team Perla. Inoltre ci vengono anche presentati i mercanti della ditta Ginko, ovvero Ginkor ed Etelo. È da pochi giorni disponibile sul My Nintendo Store il calendario del 2022 a tema Nintendo. Sarà possibile ottenerlo gratuitamente scambiandolo con 300 punti di platino. Ovviamente poi si dovranno pagare i 7 euro di spese di spedizione. E tale calendario sarà costituito da 13 fogli più una base di sostegno che serve ad appoggiarli. Anche se era stato liccato già tempo fa, solo da pochi giorni è stato confermato ufficialmente che Dragonite sarà finalmente disponibile su Pokémon Unite durante l'evento di Natale. È possibile utilizzare questo Pokémon di tipo Drago già dal 20 dicembre. Anche per oggi era tutto, vi ringrazio per l'attenzione, se volete supportare il canale lasciate un bel mi piace, se siete nuovi iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!